Buonasera, bentrovati. Ve lo dico subito, non per rovinarvi il ferragosto, ma tra poco il telegiornale si apre ancora una volta con i dati dei contagiati dal Covid-19, che continuano ad essere in crescita. Oggi, nelle ultime 24 ore, è stata superata la soglia dei 600 contagiati. Sono dati importanti che non devono allarmare nel senso di terrorizzare, ma devono far ragionare, lo dico pro bono, insomma, per il bene di tutti, perché naturalmente gli analisti e gli esperti in queste ore si stanno appellando proprio alla responsabilità della popolazione, perché mantenga quelle misure di sicurezza su cui tanto si è battuto negli ultimi mesi e soprattutto che eviti gli assembramenti, perché questi sono poi i punti fondamentali per la prevenzione, per evitare che questi numeri, continuando a crescere, possano portare a delle chiusure nuove, seppure limitate nei prossimi mesi, perché va tenuto presente un dato fondamentale, intanto che questi dati si riferiscono a contagi che sono avvenuti 15 giorni fa, da una settimana a due settimane fa. E poi, se questa è la tendenza, il vero rischio è che si arrivi all'inizio dell'autunno e quindi alla riapertura, alla vigilia della riapertura delle scuole, con dei dati ancora maggiori, quindi con i contagi molto alti. Ed è evidente che, e lo ha ribadito peraltro anche Guerra, che è il rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico e fa parte anche dell'OMS, che quando ci sarà la riapertura delle scuole, la curva inevitabilmente tenderà a crescere nuovamente. Quindi bisogna arrivare preparati. Parleremo di questo naturalmente, ma parleremo anche delle conseguenze sociali della chiusura che c'è stata mesi fa, perché oggi, come è tradizione, nel giorno di Ferragosso il Ministro dell'Interno, la Lamorgese, ha fornito i dati legati ai crimini e sono stati nettamente in ribasso nell'ultimo anno, proprio a causa della chiusura. Questo è abbastanza lapalissiano, perché i criminali sono andati meno in giro, sono rimasti chiusi a casa. Però il dato che fa allarmare è che proprio all'interno delle case invece sono aumentati i delitti, i femminicidi sono in aumento. E sono stati in aumento anche gli sbarchi, ed è questo il punto su cui sentiremo si è innescata la polemica politica, come era prevedibile tra maggioranza e opposizione, perché gli sbarchi del nostro paese e dei migranti sono aumentati negli ultimi mesi del 148%. Poi ci occuperemo anche di altro, perché la rifondazione del Movimento di 5 Stelle, con il voto sulla piattaforma Rousseau, che di fatto ha dato il via libera all'alleanza con i partiti tradizionali, quindi cambiando in qualche modo identità al Movimento, sta aprendo nuovi scenari per i prossimi appuntamenti elettorali, che sono naturalmente quelli delle regionali, ma anche quelli delle comunali, non ultimo quello della capitale di Roma. E sentirete che il Movimento è in parte diviso su questo, arrivano segnali invece dal maggiore alleato di governo, cioè il Partito Democratico, in positivo, diciamo quindi in visione di una possibile alleanza anche sulle altre elezioni. Quello che è certo è che Di Maio si è intestato, è rivendicato, lo sentirete con forza, questa trasformazione del Movimento. Poi torneremo sul caso sul giallo di Caronia, perché oggi per il dodicesimo giorno consecutivo si è continuato a battere tutto il terreno intorno a Caronia, dove è stata trovata Viviana a Parisi morta, alla ricerca di suo figlio, di Joelle, di quattro anni, e si sta avanzando, facendo strada a una nuova ipotesi investigativa, clamorosa, che ancora naturalmente non ha conferme, ma su questo si sta lavorando. Dall'estero poi ci sono due notizie importanti, una che riguarda lo scenario della Bielorussia, c'è stato un contatto, una telefonata tra il presidente Lukashenka e il presidente russo Putin, e sentirete che cosa ne è emerso, e poi le elezioni americane, con una clamorosa denuncia dell'Istituto Postale Nazionale, che di fatto ha annunciato che probabilmente potrebbe non essere in grado di fornire le schede elettorali per la votazione di novembre. Questo potrebbe cambiare le cose. Sentiremo tra poco, intanto sentiamo i titoli tra 30 secondi. Salgono ancora i numeri del contagio da coronavirus, 629 casi e quattro decessi nelle ultime 24 ore, l'incremento maggiore in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, nonostante il parere contrario degli esperti restano aperte le discoteche. Difficoltà anche per controllare chi arriva in Italia da paesi a rischio, dubbi sulla riapertura delle scuole, pronto intanto il primo lotto del vaccino russo, con la produzione a livello industriale a settembre. E di Covid ha parlato anche la Mesa dell'Interno nella conferenza stampa di Ferragosto, con un appello ai giovani a non sottovalutare i rischi del contagio. La pandemia, ha spiegato la Morgese, ha rallentato la criminalità, ma sono aumentati gli arrivi dei migranti del 148,7% in un anno. E proprio su questo punto è andato all'attacco Salvini, il fallimento del governo, dice, è nei numeri. Dopo il via libera dalle anze e ricandidature degli iscritti al Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio parla apertamente di svolta, guarda però alle elezioni comunali del 2021. Per la partita che si giocherà nella capitale, Zingaretti ha già dichiarato che non sosterrà la Raggi. In ballo però ci sono anche le regionali di settembre, l'intesa PD 5 Stelle per ora riguarda solo la Liguria. Di fronte alle contestazioni di piazza che non accennano a placarsi, il presidente bielorusso Lukashenka, dopo aver rifiutato la mediazione internazionale, chiede l'aiuto di Vladimir Putin. Tiepida reazione di Mosca che si limita ad auspicare una rapida soluzione, ma le manifestazioni continuano. Nonostante la repressione, dall'esilio in Lituania la leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, chiede aiuto all'Europa. L'umiliazione di Lisbonaco, l'8 a 2, subito dal Bayern Monaco in Champions League, chiude il ciclo vincente del Barcellona. Partita alla rifondazione, Messi potrebbe andarsene nei sogni dell'Inter, mentre per la panchina che è stata di Cruyff e Guardiola il favorito è un'altra bandiera, Blaugrana, Xavi, ma sarebbe in corsa anche Allegri. Buonasera, bentrovati, intanto auguri a tutti da parte della redazione del Tregiornale per la festa dell'Assunta e di Ferragosto. Allora avete sentito anche dai titoli la curva dei contagi da coronavirus continua lentamente a risalire. Ancora non sono numeri estremamente preoccupanti perché naturalmente sono molto più bassi e il sistema sanitario non è sotto pressione naturalmente, però come diciamo sempre la tendenza è quella che conta, questi sono numeri che si riferiscono a 15 giorni fa rispetto all'inizio dei contagi, sapete che l'incubazione è da 1 a 2 settimane e soprattutto c'è il grande timore per l'inizio delle scuole perché non si può arrivare all'inizio del nuovo anno scolastico con una curva così in crescita perché naturalmente crescerà inevitabilmente con il rientro nelle aule. Il punto di rottura, secondo gli esperti, è quando si passerà da focolai locali, come è in questo momento, a un focolaio globale distribuito su tutta la popolazione, quindi su tutto l'intero territorio nazionale. Cresce ancora la curva epidemiologica della pandemia sale con una progressione quasi inesorabile. Stavolta il muro dei 600 nuovi contagi giornalieri ad essere scavalcato, 629 ancora un più 10% rispetto al dato di ieri e un numero di tamponi processato, oltre 53.000, ben più alto rispetto alle 24 ore precedenti. I decessi sono 4 ma oggi si devono aggiungere anche 154 vittime dimenticate che, a Parma, nei mesi più critici, erano sfuggite al conteggio complessivo. Col dato di oggi torniamo indietro di quasi tre mesi, l'ultima volta in cui si era andati oltre la soglia dei 600. Nuovi contagi era stato il 22 maggio, quando il lockdown era finito. Non si potevano frequentare le piscine e le palestre e i parchi, divertimento, erano ancora chiusi. Ancora una volta il Veneto, con 120 contagi, la regione con il più alto numero di nuovi positivi. Effetto soprattutto di uno dei focolai più difficili da spegnere, quello dell'ex caserma Serena di Treviso. Attualmente è un alloggio per migranti dove il tasso di trasmissione del virus, da giorni, è andato ben oltre l'unità. Nel Lazio, 58 e in Sicilia, 46, gli altri incrementi maggiori. Si tratta in gran parte di cosiddetti contagi di importazione, arrivi o rientri da paesi ad alto tasso di incidenza Covid e nel caso della Sicilia il dato contiene anche i migranti approdati nelle ultime ore sull'isola e risultati positivi. Poi c'è la Lombardia dove la crescita si attesta intorno alle 100 unità, soprattutto turisti di rientro dalle vacanze. Proprio negli ospedali dell'area bergamasca, una delle zone più colpite dalla pandemia, si sono registrati i primi disagi e lunghe attese per chi, rientrato dalle vacanze, si è messo in fila per effettuare il tampone, così come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute. A preoccupare anche l'idea che il virus non possa creare seri problemi ai più giovani, una convinzione che si scontra con la realtà, come nel caso dei cinque giovani pugliesi ricoverati in condizioni serie per polmonite interstiziale provocata dal SARS-CoV-2 o il caso della ragazza palermitana in rianimazione all'ospedale Cervello dopo essere rientrata da Malta. Ecco perché i luoghi della movida estiva continuano ad essere sotto osservazione se i dati del contagio dovessero ulteriormente peggiorare le ordinanze restrittive dei governatori di alcune regioni in tema di feste e locali da ballo potrebbero cedere il passo nei prossimi giorni ad un provvedimento da Palazzo Chigi. L'obiettivo è arrivare alla ripresa di settembre con numeri bassi e una situazione sotto controllo soprattutto per non mettere a rischio la riapertura delle scuole prevista tra un mese. Naturalmente tutto cambierà quando si riuscirà ad avere un vaccino. Sapete che nei giorni scorsi il presidente russo ha annunciato primo al mondo di aver registrato, che la Russia ha registrato come primo paese al mondo un vaccino dal nome chiaramente del forte impatto geopolitico lo Sputnik V che richiama il lancio del primo satellite artificiale terrestre nel 57, appunto la vittoria della Russia sugli Stati Uniti. Bene, oggi la Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino. L'annuncio naturalmente è stato accolto così come quello della registrazione con grande cautela dagli scienziati di tutto il mondo perché non c'è stato ancora un rigoroso controllo di sicurezza. Cioè Mosca non ha reso disponibili le evidenze scientifiche su questo farmaco e soprattutto le evidenze che sia stato testato, servono almeno dai 4 ai 6 mesi per dimostrare la sicurezza e l'efficacia appunto che sia stato testato in maniera rigorosa sugli esseri umani. Però l'annuncio naturalmente è stato fatto e lo dobbiamo registrare. Ma adesso vediamo che cosa ha comportato nei mesi scorsi. Abbiamo visto che siamo arrivati ai numeri di contagio che richiamavano il periodo di maggio dove si diceva nel servizio era da poco ripresa, da poco erano stati riaperti alcuni locali, era finita quella chiusura serrata che c'era stata nei mesi precedenti. Che cosa ha comportato questo dal punto di vista sociale? Un calo generalizzato ma questo era abbastanza prevedibile di tutti i delitti tranne alcuni, sentirete. Ha provocato però negli ultimi mesi anche, non legato naturalmente al lockdown, ma c'è stato negli ultimi mesi anche un aumento degli arrivi e degli sbarchi del nostro paese e questo sentirete anche nel servizio. Ha innescato una evidente, prevedibile bagarre politica. Un dossier che racconta l'impatto dei mesi di lockdown sui reati in calo registrati in Italia nell'ultimo anno ma che inevitabilmente segna un ferragosto di polemiche sul tema degli sbarchi e della sicurezza. La scelta di Milano non è casuale, il ministro dell'interno Luciano Lamorgese spiega il suo legame di ex prefetto con la città che è sicura, dice, e la volontà di mostrare la vicinanza dello Stato a un territorio colpito dalla pandemia. Nel Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza, tradizionale appuntamento di metà agosto, l'attenzione è puntata soprattutto sulla questione immigrazione. In un anno sono aumentati gli sbarchi, più 148,7%, 662 i richiedenti asilo ricollocati, più 167 rispetto allo scorso anno, con segno meno i rimpatri e anche i migranti nei centri di accoglienza sono in tutto 86.330. Gli arrivi che noi abbiamo avuto, così numerosi, sono stati determinati da sbarchi autonomi e quindi difficilmente gestibili nel senso di fermarli in mezzo al mare. Il problema non sono i migranti in aumento, ma gli effetti del Covid, dice il ministro, che spiega come si stanno cercando caserme e navi da mettere a disposizione per le quarantene. Il 41% dei migranti è partito dalla Tunisia. La Morgese annuncia che lunedì prossimo andrà in Tunisia con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Il futuro nuovo decreto sulla sicurezza, marcanetto il cambio con il recente passato, dell'ex responsabile dell'interno Matteo Salvini, anche i richiedenti asilo entreranno in un circuito di accoglienza identico a chi è sottoposto a protezione internazionale. I centri di accoglienza dovranno essere gestiti dai comuni. Noi abbiamo disegnato quello che è un'accoglienza ottimale, ma questa è la linea in relazione alla disponibilità dei sindaci e delle risorse, soprattutto delle risorse economiche disponibili. L'opposizione parte all'attacco. Matteo Salvini replica per primo 15.406 sbarchi dall'inizio dell'anno a oggi contro i 4.261 dello stesso periodo di un anno fa. Il fallimento di questo governo è nei numeri. Da Fratelli d'Italia invece le parole della Morgese sono il canto del cigno. Nel dossier sui reati sono in calo i furti, le rapine, le truffe, aumentano del 12% quelle informatiche. Calano gli omicidi ma resta l'allarme per quelli in ambito familiare in tutto 149 di questi. Il 69,8% erano donne e 106 omicidi solo nel periodo del lockdown. Aumentano i latitanti di rilievo arrestati, più 49%, diminuiscono le operazioni di polizia giudiziaria. Calano le denunce per stalking e la lotta al terrorismo. 20 milioni di persone controllate durante la chiusura. 1.177 i denunciati per violazione della quarantena. Al governo insieme del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle devono sicuramente far fronte alle critiche che avete sentito da parte dell'opposizione in merito agli sbarchi, alla questione della gestione della migrazione. Ma quello che è sicuro è che dopo il voto sulla piattaforma Russo di ieri, la rifondazione, passatemi il termine tra virgolette, del Movimento 5 Stelle che ha di fatto aperto alle alleanze anche con i partiti tradizionali a livello locale, locale, naturalmente gli occhi sono puntati alle prossime elezioni che siano regionali o comunali. In particolare gli occhi sono puntati sulle marche per capire se così come in Liguria i due simboli, PD e Movimento 5 Stelle, possano presentarsi insieme alle elezioni. Ci sono delle aperture da parte del Partito Democratico, aperture anche da parte di dirigenti del Movimento 5 Stelle. Non tutti, il partito è più spaccato, adesso si comincia a ragionare del futuro del partito e della futura governance. Dovranno essere convocati gli stati generali per capire che cosa e come si trasformerà il Movimento nei prossimi mesi. Quel che è certo è che Luigi Di Maio si è intestato questa trasformazione. Con il doppio sì alle alleanze con i partiti tradizionali e al terzo mandato per le amministrative, i nostri iscritti ci hanno chiesto di evolvere. Luigi Di Maio ora usa il verbo evolvere a proposito della svolta. Pro PD fortemente caldeggiata da Beppe Grillo e sottoscritta ufficialmente sulla piattaforma Russo. Dal PD il segretario Zingaretti plaude spingendo un tasto a lui. Caro è un fatto positivo, dai 5 Stelle siamo diversi ma per governare bisogna essere alleati. Ma la strada di questa potenziale evoluzione non è che sia tutta rosa e fiori e non solo per il mese appena o poco più che ci separa dalle elezioni regionali o perché sulla ricandidatura della sindaca di Romaraggi la porta del PD è sempre sbarrata. Forse è per questo che Di Maio sposta in avanti alle comunali del prossimo anno il risultato possibile di un'intesa complessiva. Ma intanto appunto le regionali sono il 20 settembre e al momento di candidati comuni i neo alleati ne hanno partorito solo uno, Sansa in Liguria. Il vice segretario Orlando è proprio lì che guarda. Un'alleanza tra noi e 5 Stelle può fare la differenza, dice, in particolare sulla Puglia e sulle Marche dove l'alleanza è ancora possibile. Possibile, certo, con qualche eventuale rischio in più per i principali azionisti dell'attuale maggioranza. Ma preoccupare Beppe Grillo e Zingaretti che di questa alleanza possono considerarsi un po' i padrini non sono solo i tempi, sono anche le possibili reazioni all'interno di un movimento che sarà ora anche più simile di prima a un partito tradizionale ma che nella sua base, dalle logiche di partito, continua ad essere ben lontano. Sarà un caso ma Davide Casaleggio tiene a sottolineare che il superamento del secondo mandato non vale per i parlamentari e che la regola è cambiata solo per comuni e regioni. Il regente Vito Crimi da parte sua osserva non è una via libera ad alleanze con chiunque. Ma l'umore si colgono anche nel PD anche se a esprimere apertamente è solo Orfini. Le alleanze si decidono in base a una visione del paese, programmi, cultura politica non con un sondaggio in rete fatto il 14 agosto. È la sua critica non troppo diversa per la verità da quella di Italia Viva e Forza Italia che leggono questa alleanza in fotocopia come una resa del PD al Movimento 5 Stelle e l'addio al riformismo in favore di un nuovo populismo ulivista. Adesso veniamo al giallo di Caronia perché in questa giornata ancora una settantina di uomini tra polizia, carabinieri, guardie forestali, protezione civile hanno setacciato tutta la giornata la zona in cui è stata trovata morta Viviana Parisi alla ricerca di suo figlio Gioele di 4 anni perché ancora non si trova e non ce n'è traccia. Anche se si sta lavorando in queste ultime ore a un'ipotesi investigativa nuova che sarebbe davvero clamorosa. Ma non è soltanto questo, ci sono molti punti oscuri che ancora non tornano di questa vicenda. Uno scenario da tragedia greca. La definisce così l'avvocato difensore della famiglia Mondello l'ultima ipotesi investigativa su quanto possa essere accaduta Gioele 4 anni a sua madre Viviana Parisi trovata morta ormai una settimana fa a poche centinaia di metri dall'autostrada nelle campagne di Caronia, provincia di Messina. Le immagini recuperate dagli inquirenti mostrano il piccolo ancora vivo nella macchina della madre nei minuti che precedono l'incidente avuto dalla donna in autostrada. Uno scontro sembrerebbe di lieve entità con un furgone. Nei video però il bambino non appare legato al seggiolone ma semplicemente sul sedile. Per questo si pensa che dopo l'impatto con il furgone degli operai che lavoravano in quel tratto di strada Gioele possa aver subito dei danni fisici persino che possa essere morto. Da qui la decisione della donna disperata di prenderlo, scavalcare il guardrail e inoltrarsi per le campagne dove l'avrebbe forse sepolto prima di gettarsi nel vuoto. Al momento è solo una pista, una suggestione su cui si cercano riscontri, prove concrete. Anche oggi nel giorno di Ferragosto oltre 70 uomini stanno lavorando per cercare tracce del bambino, qualcosa che possa a 12 giorni dalla sua scomparsa far capire agli investigatori se è questa l'ipotesi giusta per capire dove cercare e trovare Gioele. Pozzi, casolari, palmo a palmo, la zona viene battuta anche con droni e cani molecolari. Si lavora anche nell'abitacolo dell'auto di famiglia per trovare elementi che possano suffragare quello che al momento è lo scenario su cui si stanno concentrando gli inquirenti. Dai primi controlli non ci sono tracce evidenti dell'impatto sul bimbo ma si attendono esami più accurati che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. C'è poi la questione dei testimoni svaniti nel nulla dopo aver raccontato di quella donna che si allontanava dal luogo dell'incidente. A più ripresi i magistrati manchi legali della famiglia Mundello hanno invitato le persone che hanno visto Viviana Parisi con il bimbo in braccio scavalcare il guardrail a farsi vive. Finora nessuno ha risposto. Vediamo notizie dall'estero. Sicuramente in primissimo piano c'è ancora la situazione in Bielorussia che non si riesce a tenere sotto controllo. Il presidente Lukashenko ha telefonato al presidente russo Putin chiedendo aiuto e insinuando il sospetto che ci potesse essere un'intromissione esterna in Bielorussia, un po' sulla falsa riga delle rivoluzioni colorate dell'est Europa degli ultimi anni, degli ultimi decenni per la verità e su questo appunto ha chiesto un intervento e un aiuto al suo alleato Putin. Vediamo che cosa è emerso. Dopo 26 anni da padrone in contrastato della Bielorussia, Alexander Lukashenko sembra davvero vacillare sotto i colpi della contestazione e di un isolamento internazionale pressoché totale. In particolare dopo il discorso di oggi nel quale il rieletto presidente ha respinto qualsiasi mediazione straniera con l'opposizione. Non cederemo il paese a nessuno, non abbiamo bisogno di intermediari, si facciano gli affari loro ha tagliato corto Lukashenko, ma ora anche il suo potente alleato Vladimir Putin potrebbe essere tentato di prendere le distanze. Per Mosca la Bielorussia resta strategicamente decisiva, a maggior ragione se a guidarla ci fosse un personaggio più presentabile, anziché un leader sempre più ingombrante e indifendibile. Leader che oggi in un colloquio telefonico ha chiesto aiuto proprio a Putin, evocando un'aggressione straniera sul modello delle rivoluzioni colorate che starebbe istigando le piazze di Minsk e che minaccerebbe non solo la Bielorussia ma anche la Russia, riferendosi al progetto di un'unione sovranazionale tra i due paesi. Putin avrebbe promesso aiuto per garantire la sicurezza della Bielorussia, anche se da Mosca arrivano parole piuttosto tiepide, visto che il Cremlino si è limitato ad esprimere fiducia in una rapida soluzione della crisi. Una crisi che in realtà potrebbe non essere così breve. Tutto dipende, sostengono molti analisti dalle manifestazioni di piazza, se continueranno e soprattutto se gli operai delle grandi industrie di Stato sciopereranno contro il regime, al quale in passato erano rimasti sempre leali, Lukashenka sarà sempre più un uomo solo al comando. E in effetti per il settimo giorno consecutivo sono andate avanti le proteste e la contestazione dei risultati delle presidenziali del 9 agosto, vinte con percentuali bulgare, naturalmente da Lukashenka. Invitato ad andarsene da migliaia di persone che hanno scandito invece il nome di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione costretta a fuggire in Lituania, i dimostranti hanno reso omaggio al manifestante ucciso lunedì scorso durante gli scontri con la polizia che come d'abitudine ha represso con brutalità ogni forma di dissenso, come denunciano gli uomini arrestati nei giorni scorsi e rilasciati in queste ore. Avete sentito che si diceva nel servizio di Paolo Stella che la questione della Bielorussia è strategicamente decisiva per la Russia, questo perché per la Russia controllare quella fascia che è la cosiddetta Russia bianca verso il Baltico e l'accesso verso Berlino e la Germania è fondamentale, soprattutto dopo che nel 2014 la Russia ha di fatto perso il controllo dell'Ucraina. E dall'altra parte dalla Bielorussia ha necessità di avere gli introiti, i soldi della Federazione Russa e di Mosca per garantire quel welfare, quello stato sociale che ha permesso a Lukashenka in tutti questi anni di restare al potere. L'altra notizia importante di oggi viene invece dagli Stati Uniti, sapete che il Presidente Trump più volte nei giorni scorsi e nelle scorse settimane aveva ipotizzato addirittura un rinvio delle elezioni per problemi legati al voto postale che non sarebbe stato corretto, senza per la verità fornire nessun elemento a riprova di questa tesi. Adesso c'è una novità importante perché è lo stesso ufficio postale che avanza dei dubbi in merito, dubbi molto seri. Sentite. Milioni di voti per eleggere il Presidente americano spediti per posta potrebbero non arrivare in tempo per essere conteggiati, lo scrive il servizio postale degli Stati Uniti ai governatori degli Stati dell'Unione. La scadenza per la richiesta e la trasmissione delle schede elettorali sono incompatibili con gli standard di consegna, si legge nella missiva, fino ad ora ricevuta da solo 18 Stati su 50, che sembra lanciare l'allarme su di un problema caro a Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca da mesi va infatti ripetendo che il voto per posta non è sicuro, nonostante da sempre milioni di americani lo usino per eleggere il Presidente ancora di più nel corso della pandemia Covid, che potrebbe tenere chiusi molti seggi. Il problema però è un altro. Il servizio postale e la Casa Bianca non stanno facendo nulla per risolvere la crisi. Anzi, da tempo, secondo non solo i democratici al Congresso, ma diversi deputati e senatori repubblicani, sembrano attivamente impegnati a peggiorarla in quella che appare una manovra senza precedenti nella storia, per permettere al Presidente in difficoltà di trovare un escamotage tecnico e posporre il voto. Trump fino ad ora si è opposto ad ogni tentativo di potenziare il servizio postale, a partire dallo stanziamento di fondi speciali e supplementari per 25 miliardi di dollari tagliati a 10, lo stretto indispensabile per mantenere a galla la struttura durante la pandemia. Non solo il Presidente, che già in più di un'occasione ha ventilato di non voler accettare il risultato di un'elezione tenuta per posta, ha messo a capo del servizio Louis DeJoy, miliardario che ha contribuito alla campagna con donazioni importanti. DeJoy da oltre 20 anni è il primo postmaster non tecnico senza nessuna esperienza e con più di qualche problema di conflitto di interessi avendo partecipazioni in aziende che hanno contratti con le poste americane. In particolare dal suo primo giorno DeJoy è impegnato in un piano di tagli e di blocco degli straordinari senza precedenti, tutte decisioni che hanno rallentato le consegne anche per i servizi essenziali come le medicine. L'operazione è da tempo nel mirino dei democratici che hanno chiesto l'intervento dell'Ispettore Generale per rimporre al servizio postale americano di tornare ai vecchi standard e garantire, sono le parole dei due leader alla Camera e dal Senato, Pelosi e Schumer, la sacralità delle elezioni. Vediamo notizie sportive, ci sono delle immagini che non possiamo non farvi vedere perché sono stati attimi davvero di grande paura per il giro di Lombardia di ciclismo perché il belga Remco Evenepol, che è una stella emergente di questo sport, è caduto lungo una discesa nel tratto tra Colma di Sormano e Nesso ed è letteralmente, qui si vede in questo fermo questo rallenti, eccolo vedete, rallenti delle immagini, è volato letteralmente per alcuni metri nella scarpata sotto il ponte. Questo ventenne corridore della Quick Step ha urtato il muretto e si è ribaltato, appunto è volato nel fosso sottostante che distava circa 6 metri. Fortunatamente Evenepol è stato subito soccorso, immobilizzato dai medici e non ha riportato, secondo quanto hanno dichiarato, nessun trauma grave, alcune scoriazioni a una gamba, ma insomma sembra davvero il minimo. È rimasto sempre vigile fino all'arrivo in ospedale per tutti i controlli del caso. E vi dicevo sempre per lo sport, non possiamo non parlare della bruciante sconfitta del Barcellona portata avanti in Champions League per il mano del Bayern Monaco, una sicuramente delle più pesanti sconfitte della squadra blaugrana che ha, diciamo, lanciato il via a una sorta di rifondazione della squadra, tanto che molti diversi elementi della squadra probabilmente lasceranno o per limiti di età o perché è la fine davvero di un ciclo vincente che sembra davvero voltare al termine dopo anni. La severa lezione subita dal Barcellona ha fatto velocemente il giro del mondo e rimarrà tra i capitoli più dolorosi nella storia del club. Occorreranno anni e molte vittorie per attenuare il frastuono determinato da una caduta, forse preannunciata da numerosi segnali, ma certamente non prevedibile nelle modalità e nelle dimensioni. Gli otto violenti schiaffoni inferti ai blaugrana da uno straordinario Bayern Monaco hanno già avviato un processo di rinnovamento profondo e radicale. Il Barça ha chiuso malinconicamente un ciclo legato saldamente al nome del suo uomo più rappresentativo e ora c'è un interrogativo al quale dare immediata risposta. Leo Messi potrà ancora costituire il punto fermo per la ripartenza o sarà meglio augurargli buona sorte per una nuova avventura altrove, forse all'Inter di Antonio Conte? Domande complesse alle quali neppure lo stesso Messi, letteralmente devastato dalla notte di Lisbona, è in grado ora di fornire risposte precise. Il Barcellona però non può permettersi il lusso di attendere e in queste ore, dopo aver chiuso il rapporto con Kike Setién, lavora per individuare il nome dell'uomo al quale affidare, messi o non messi, il compito di costruire il futuro immediato. La suggestione dei sentimenti e non solo colloca a Ciavi, il cervello pensante operativo della fantastica squadra disegnata da Pep Guardiola, in cima alla lista dei desideri della tifoseria catalana. Ciavi è giovane e ambizioso, l'unica perplessità è legata alla sua esperienza in panchina che si limita a quella maturata nella scorsa stagione in Arabia Saudita, in qualità di tecnico dell'Al Saat. Il discorso presidente Bartomeu, già ricandidatosi alle imminenti elezioni presidenziali, sta dunque valutando anche ipotesi più collaudate. La rosa di nomi al vaglio della dirigenza blaugrana comprende Maurizio Polcettino, licenziato dal Tottenham, ma con profonda conoscenza della Liga Spagnola, Max Allegri, che dopo un anno di lontananza dal calcio potrebbe rientrare in grande stile, è Ronny Koeman. L'attuale CT olandese fu il capitano del fantastico Dream Team guidato da Johan Cruyff e nella finale di Coppa Campioni del 92 a Wembley contro la Sampdoria segnò un gol che a Barcellona non hanno mai smesso di raccontare. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo dopo la pubblicità per tutti gli aggiornamenti. Ecco, ci sono un aggiornamento. Vi dicevo nel corso del giornale delle trattative tra Movimento 5 Stelle e PD, non soltanto a livello del governo, ma per le elezioni locali, comunali o regionali che siano. Bene, poco fa alla Sindaca di Roma, Raggi, alla Sindaca di Roma è stato chiesto se cercherà comunque la trattativa con il Partito Democratico dopo il no ufficiale di Zingaretti alla sua ricandidatura. La Raggi ha risposto, non ho mai chiesto l'appoggio di Zingaretti per la mia candidatura. Dunque qualche problema a livello locale sicuramente c'è, almeno a Roma. La linea come sempre dopo di noi va in onda a Parenzo e a Telese. Noi ci rivediamo se volete domani, poco prima delle 20. Buona festa a tutti.